Buongiorno, il risparmio energetico passa anche dalla capacità di prevedere nelle nostre abitazioni impianti capaci di produrre energie da fonti rinnovabili. Su questo, bisogna dirlo, molto è stato già fatto, ma la nostra lista, noi moderati, propone l'estensione generalizzata dell'obbligo per le nuove costruzioni di ogni tipo di dotarsi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, siano essi pannelli fotovoltaici, pompe di calore, geodermia, biomasse, perché il risparmio energetico è un impegno per tutti e parte dai comportamenti virtuosi dei singoli. Lo possiamo fare con il tuo aiuto il 25 settembre per portare a Roma il nostro Abruzzo, quello degli abruzzesi.